ben ritrovati all'appuntamento con il nostro tg delle 13 e 30 è il giorno che dove si celebra il giorno che celebra la liberazione dell'italia dalla seconda guerra mondiale è un giorno importante fa strano parlarne quando a qualche migliaio di chilometri la guerra c'è ed è vera a terni le celebrazioni per i 77 anni della liberazione sono state celebrate anche questa volta con con grande partecipazione di gente vediamo il 77 anniversario della liberazione celebrato anche a terni alla presenza delle maggiori autorità civili e militari il via nella sala consigliare di palazzo spada per la cerimonia commemorativa aperta dal sindaco di terni leonardo latini settantesimo anniversario della liberazione dopo due anni di pandemia siamo ritornati a riunirci qui nella massima assiste nella sala della massima assiste cittadina in maniera partecipata una festa un'occasione per coltivare la memoria per ricordare i valori fondativi del nostro stato per riaffermare il principio di unità nazionale e per cercare di avere una memoria condivisa che possa coltivare sempre i valori fondamentali di libertà e di pace di cui tutti quanti abbiamo bisogno consigliere regionale daniele carissimi ha poi portato il saluto della regione della presidente tesei per la provincia la vice presidente monia santini aula consigliere affollata a testimoniare come ricordo di quegli anni terribili della guerra e poi della liberazione siano un patrimonio collettivo condiviso specie in un momento come questo quando a poche centinaia di chilometri di distanza c'è chi sta vivendo momenti terribili con il popolo dell'ucraina sotto bombardamenti a tappeto dopo la cerimonia in comune il corteo ha raggiunto piazza briccialdi dove le autorità hanno deposto una corona dall'oro e onorato la memoria dei caduti con l'accompagnamento musicale della banda tullio l'angeli di cesi in una nota della presidente della regione durante la tesei quello che sta accadendo ha detto a poca distanza ci fa capire ancor di più anche a chi solo letto sui libri la nostra storia quanto la liberazione dell'italia sia stato evento fondamentale per tutti noi la democrazia la pace la libertà tutte rigorosamente con la lettera maiuscola vengono spesso date per scontate ma la storia passata e purtroppo presente ci insegna che non è così non ci sono soltanto le celebrazioni per il anniversario della liberazione ma questa è una data che si mescola con il weekend pasquale con quello del primo maggio e federalberghi ha ha prodotto un documento in cui si parla di una di un aspetto positivo per quanto riguarda il weekend pasquale 65 70 per cento di presenze di occupazione dei posti in alberghi in quel periodo e propone anche qualcosa di positivo per il futuro perché vi chiedo del primo maggio alle porte e c'è la speranza che con un meteo adeguato si possa arrivare al tutto esaurito l'andamento incoraggiante del movimento turistico che si è registrato in umbria in occasione della pasqua con un dato medio sull'occupazione tra il 65 e il 70 per cento e picchi ancora superiori dovrebbe essere confermato anche in occasione del ponte del 25 aprile e quanto emerge da un'indagine effettuata da federalberghi umbria conf commercio tra le strutture associate l'ottantadue per cento prevede infatti prenotazioni ottime o buone anche per il prossimo fine settimana con un elemento che peraltro può incidere sensibilmente sul dato finale ovvero la situazione meteorologica nel buon andamento previsto per la festa della liberazione incide senz'altro positivamente lo svolgimento il giorno prima della marcia della pace perugia assisi per la quale si annunciano molte adesioni ai cui partecipanti di fuori regione potrebbero approfittare per un giro più ampio dell'umbria secondo federalberghi il 57 per cento del campione di strutture recettive parla per il primo maggio di prenotazioni ancora scarse determinate principalmente da due fattori la circostanza che il primo maggio cade di domenica e quindi non si tratta di un vero ponte e anche in questo caso l'abitudine sempre più radicata di prenotare in estremis cosa che peraltro potrebbe rovesciare le previsioni in senso positivo ed immediato al ridosso della festa dei lavoratori secondo federalberghi la tipologia di offerta della nostra fatta di storia cultura città d'arte ambiente che hanno gastronomia conferma di avere una forte attrattività c'è fiducia quindi circa l'esito positivo ai ritorni della campagna di comunicazione della regione umbria e sul ritorno a pieno regime degli eventi trainanti del flusso turistico dal festival dei due mondi a umbria jazz nel contempo però c'è la necessità di invertire il trend ancora da migliorare circa la presenza di turisti stranieri che rappresentano un valore aggiunto molto importante per tutta la filiera e che potrebbero tornare quanto prima a livello del 30 35 per cento del totale del periodo precovido era scomparso dal 20 marzo è stato ritrovato sabato scorso ancora al posto di guida della sua vettura in fondo ad un precipizio nella zona di tor di monte ad orvieto per capire le cause dell'incidente del decesso sarà l'inchiesta aperta dalla procura di terni che ha anche disposto l'autopsia sul corpo dell'imprenditore 64 anni ernesto cotti originario di baschi e da tempo residente in veneto a padova dai primi accertamenti condotti dal commissariato di orvieto della polizia di stato non risulterebbero lesioni e ferite diverse da quelle compatibili con l'incidente stradale in cui sarebbe stato sarebbe rimasto coinvolto c'è il cantiere aperto lungo la terni orte lungo il raccordo autostradale e con strada chiusa in direzione lazio quindi auto con una sola corsia di marcia lunghe file anzi interminabili file ma siamo in un periodo di festa e il problema è che in quei cantieri non c'è nessuno a lavorare evidentemente festa anche per chi lavora nei cantieri la domanda è una soltanto ma è una soltanto ma visto il periodo festivo che nessuno lavora non si potrebbero riaprire ponte di pasqua ponte del 25 aprile marcia della pace festa del primo maggio giornate di maggiore traffico anche in considerazione della grande voglia di uscire di casa della gente dopo le restrizioni covide ebbene in questo periodo di maggiore circolazione di auto sia a livello locale che nazionale l'anas ha pensato bene di proporre restrizioni ad una sola corsia di marcia lungo il raccordo terni orte arteria già quotidianamente intasata anche senza cantieri il motivo uno dei più gravi e impellenti secondo l'anas il rifacimento del muro cosiddetto di contro ripa lavoro in corso dall 11 aprile al 31 maggio si avete capito bene quasi due mesi peccato poi che durante i ponti festivi i cantieri siano completamente fermi perché giustamente le maestranze ne approfittano per una gita al pari di quanti transitano sul raccordo e si trovano costretti in fila passo duomo senza distanza di sicurezza passando poi dalle parti del cantiere in quei giorni festivi non c'è neanche traccia di mezzi costruiscono l'arteria chiusa in direzione orte come le immagini chiaramente mostrano possibile che nessun amministratore parlamentare associazione a difesa degli utenti sia passato in quel tratto abbia chiesto ragione di tutto ciò all'anas magari cercando di accelerare i lavori e riaprire la strada nei ponti festivi quando si parla di velocità moderata rischi stradali e distanze di sicurezza ci rientra a pieno titolo anche la prevenzione agli incidenti magari evitando situazioni come quella descritta fece clamore quando anni ursono la loro sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri enrico micheli di fronte alla lentezza che caratterizzava un cantiere anas dalle parti della galleria san pellegrino prese il telefono e parlò direttamente con i vertici dell'azienda per cercare di capire il cantiere ebbe una decisa accelerata peccato che oggi non ci siano più così tanti amministratori che amano il proprio territorio adesso c'è anche la conferma è arrivata in umbria la varia la variante x e oxe fate voi del covid lo annuncia la regione dopo la nuova attività di sequenziamento nel laboratorio di microbiologia dell'azienda ospedaliera di perugia diretto dalla professoressa antonella mencacci si tratta riferisce l'assessore regionale alla salute luca coletto della conferma di un caso ritenuto dalla professoressa mencacci interessante in cui la variante x e potrebbe essere associata alla ricombinazione delle due varianti omicron 1 e 2 la storia di una battaglia legale in un libro che oggi è uscito in edicola una data non casuale il giorno della liberazione scelto da maria sole giardini per raccontare la propria storia che è una storia fatta di coraggio di vita e di libertà maria sole 25 aprile esce il tuo libro storia di una battaglia è una data particolare scelta assolutamente sì è una data di liberazione una data che parla di libertà come questo libro che parla appunto di libertà di diritti civili di libertà negate parla di una battaglia la mia battaglia che possono guardare su su google insomma sono anni che porta avanti questa questa speranza di diventare mamma nel mio paese dove sono nata in italia perché c'è un divieto la legge 40 del 2004 che di fatto mi impedisce di far nascere il figlio mio di mio marito il frutto del nostro amore sono andata in tribunale portato questa cosa all'attenzione nazionale e come è finita lo vedranno in in questo libro perché non lo sa nessuno è un'esclusiva che esce oggi è stato difficile tanto ogni volta che rileggevo le prime pagine mi veniva da piangere non riuscivo a leggere quando racconti la storia è sempre tanto difficile però c'è bisogno di raccontare per far cambiare le cose perché c'è tanta ignoranza nel mondo speriamo che è una goccia nel mare però speriamo che vinca questo muro di ignoranza conoscere per capire e affrontare la questione senza nascondersi mai nascondersi perché non c'è nulla da vergognarsi a essere a volere essere madre avere una malattia e a raccontarsi questa malattia perché può aiutare tanti credo spero weekend di infortuni al parco della cascata delle marmore due gli incidenti accaduti che hanno richiesto l'intervento delle squadre di soccorso alpino e speleologico il presidio in valnerina insieme al personale del 118 in entrambi i casi si è trattato di infortuni ad una gamba il primo sabato pomeriggio sul sentiero 6 il secondo domenica intorno alle 17 sul sentiero 1 gli infortunati una volta raggiunti sono stati stabilizzati sulla speciale barella portantina in dotazione al soccorso alpino e speleologico e mediante tecniche alpinistiche fino all'ambulanza del 118 adesso ci fermiamo una breve pausa poi la pagina sportiva università cusano l'ateneo di roma che unisce tradizione e innovazione lezioni online e in presenza gestisci il tuo tempo al meglio e investi nella tua formazione oltre 35 corsi di laurea più di 200 master iscrizioni sempre aperte e un campus a roma di 54 mila metri quadrati biblioteca palestra mensa e bar laboratori didattici pensa in grande scegli l'eccellenza accademica scegli l'università accusano è giornata di campionato in serie b e la ternana si gioca a benevento le ultime possibilità di accedere ai playoff è una partita durissima il benevento si sta giocando la serie diretta quindi ci vorrà un'impresa per gli uomini di lucarelli che dovrebbe presentare una squadra più o meno sì almeno simile a quella che ha fatto il 4 a 4 con il frosinone in campo per prendersi una rivincita per dimostrare a se stessa che in fondo un posto nei playoff lo merita difficilissimo agganciare e superare il frosinone che ha sette punti di vantaggio difficile scavalcare il perugia che avanti di quattro ma in questo campionato di serie b non c'è niente di impossibile per questo la ternana benevento dovrà scendere in campo convinta delle proprie possibilità disposta al massimo sacrificio per ribaltare una situazione che oggi non le sorride il pareggio con il frosinone ha ridotto al lumicino le speranze della ternana ma non le ha cancellate per questo defendi e compagni oggi hanno la possibilità di ritornare pienamente in gioco ovviamente la condizione è battere il benevento cheppure si gioca la serie a come sta a lucarelli capirlo con quale squadra lo scopriremo alle 18 quando le prime del campionato avranno già definito il proprio destino sulla carta sembra un turno favorevole alla squadra di fabio caserta considerati gli scontri diretti frosinone monza e legge pisa partite che si giocheranno alle 15 benevento e ternana andranno in campo conoscendo i risultati degli altri sarà un vantaggio staremo a vederlo certo è che stavolta più che mai la ternana non potrà permettersi amnesia difensiva o errori sotto la porta avversaria dovrà essere una ternana perfetta e convinta decisa a conquistare un risultato che molti considerano insperato caserta deve rinunciare alla padula glick e sao ma ha possibilità di scelte infinite lucarelli deve fare a meno di sorensen in raggiunta falletti e salsana cusupias squalificato per questo la sensazione che riproporrà per grandi linee la squadra che ha segnato quattro gol al frosinone ma al di là del modulo e degli uomini conterà l'atteggiamento solo se sarà propositivo la ternana potrà sperare nel colpaggio cristiano lucarelli in un video messaggio prodotto dal feciostampa della ternana fa conoscere il proprio pensiero chiede suoi una prova di coraggio una prova di personalità insomma una prestazione convincente a conoscere la squadra direi direi buone per come abbiamo vissuto le ultime direi che questa volta non ci possiamo lamentare quindi la squadra sta sta bene vogliosa di continuare a onorare il campionato e di fare il proprio dovere fino fino in fondo anche per arrivare diciamo che si è molto difficile con il risultato di domenica scorsa però dobbiamo metterci nelle condizioni di mentali costruire la mentalità per il quale ogni qualvolta che si va in campo lo si fa per vincere benevento una rosa incredibile praticamente diventa difficile fare una valutazione tra titolari e riserve perché sono tutti giocatori in ogni reparto sullo stesso livello quindi diventa veramente una squadra forti è una squadra fortissima una squadra che sta giocando le sue chance di di promozione quindi sarà da fare sicuramente sarà da passare una giornata movimentata ecco sì sì il campionato come tantissime volte abbiamo ripetuto campionato verso l'alto livellato verso l'alto con tantissime ricordo sempre a inizio dell'anno mimo di carlo che mi disse quest'anno dobbiamo farsi fare le squadre forti per salvarsi perché in effetti ci sono tantissime squadre che vogliono questa promozione benevento è uno di queste è una di queste e credo che l'anno prossimo si è ancora molto più ancora più livellato visto le piazze che stanno salendo e quelle che probabilmente scendono quindi e quelle che non riusciranno probabilmente a salire e quindi insomma diciamo che la serie b è tornata ad essere un campionato di un certo livello e questa penso che sia una cosa molto molto importante il tecnico del benevento fabio caserta l'ex allenatore del perugia non si fida della ternana conosce la qualità dei giocatori rossoverdi e mette in guardia i suoi fabio caserta mette in guardia i suoi la ternana è una squadra forte che ha ancora grandi motivazioni ma la squadra che è giocato al di là del sistema di gioco che sta giocando adesso ha giocato anche con altri sistemi di gioco ma al di là di come scenderà in campo sappiamo che ci sono degli elementi che in questa categoria fanno la differenza e soprattutto il reparto avanzato è un reparto che fa tanti gol e quindi noi dobbiamo stare molto attenti non al singolo ma all'intera squadra come ho detto prima una squadra che gioca bene è una squadra aggressiva ma dobbiamo essere pronti perché sento dire ormai non ha più niente da dire al campionato non è vero perché loro ci crederanno e ci credono e fanno bene anche a credere ai plof fino alla fine quindi sarà una partita difficilissima ad affrontare con la giusta concentrazione attenzione e cercare di fare le cose che sappiamo fare noi ripeto non sarà facile ma non dobbiamo pensare alle altre squadre al risultato delle altre squadre chiudiamo con un ricordo che speriamo vogliamo vorremmo fosse bene augurante per l'aternana il 25 aprile di dieci anni fa l'aternana conquistava la serie b guidata da domenico toscano fu una cavalcava incredibile per lunghi tratti con testa a testa con il taranto dell'ex davide dionigi da a stefano ambrosio a gianluca ritteri passando per fabio pisagan elito pazio max segas chris miglietta salif di andai raffaele nole tanti ragazzi che hanno scritto il loro nome in maniera indelebile nella storia della ternana un bel ricordo con il quale si chiude anche il nostro spazio informativo ma la giornata delle am eterni channel continua continua con un grande pomeriggio di sport perché dalle 17 e 30 andrà in scena il ternana live show a seguire il post partita con le interviste in esclusiva da benevento e poi il bar dello sport insomma non ci abbandonate perché ci sarà da divertirsi a presto